Musica Benvenuti al TG10, l'apertura oggi la dedichiamo all'incontro che si è svolto oggi nell'allamagna del riccio classico Eschilo di Gela tra gli studenti ed il procuratore capo della Repubblica Lucia Lotti a poche ore dal trasferimento del magistrato a Roma Hanno incontrato il procuratore capo Lucia Lotti che tra qualche giorno si insederà a Roma e hanno posto alcune domande e ad ogni domanda hanno avuto le risposte e rivolgendosi a loro il magistrato li ha invitati a credere in quello che fanno e di amare ancora di più la propria città. Loro sono gli studenti del riccio classico Eschilo e delle scienze umane In questi anni sono state tante le occasioni d'incontro e ho avuto veramente modo di apprezzare la vivacità, l'interesse, la curiosità dei ragazzi di Gela, è una risorsa straordinaria di questa città e penso che vada veramente coltivato d'altronde il futuro Qualche anno dietro lei dichiarò che Gela aveva le ali tarpate, a distanza di anni è ancora così? Le ali tarpate purtroppo i problemi sono tanti e spesso di fronte a situazioni molto complesse, molto difficili da affrontare come anche quella che, come anche la situazione che sta vivendo Gela possono inevitabilmente comportare un senso di di disagio, quasi di rassegnazione e quindi di difficoltà a pensare di poter spiccare il volo o comunque insomma trovare delle soluzioni adeguate per costruire il futuro, ma io penso che Gela abbia tutte le risorse per poterlo fare occorre molta determinazione, ma qui come altrove Soddisfatto dell'iniziativa il dirigente scolastico Giacchino Pelliteri L'incontro di oggi rappresenta certamente un gommiato però è un momento di riflessione sulla giustizia e sul difficile ruolo che la dottoressa Lotti ha svolto in questo territorio molto travagliato Cosa le dicono gli studenti, cosa le hanno detto gli alunni che frequentano l'istituto proprio in merito alla presenza del procuratore a Gela da otto anni a questa parte? Sono stati sempre contenti perché la dottoressa Lotti ha manifestato assoluta competenza e soprattutto questa empatia con i ragazzi tutte le volte che l'abbiamo avvicinata per venire a tenere un incontro essere presente a scuola la dottoressa Lotti è stata molto sollecita e i ragazzi questo lo avvertono i ragazzi hanno un grande senso della giustizia sono nella fase in cui esplorano il mondo che ancora non conoscono e quindi quando vedono che delle autorità apparentemente non avvicinabili apprendemente lontane sono così disponibili credono di più ancora alla giustizia Un giulese di 58 anni approfittando dello stato di debolezza di una pensionata le ha ripetutamente sottratto il Bancomat con relativo codice PIN effettuando diversi prelievi per un ammontare di 3.600 euro l'uomo adesso è stato denunciato dalla polizia l'ignara vittima in uno stato di profonda frustrazione si era resa conto degli ammanchi non riuscendo però a spiegarne la causa il 58enne dovrà rispondere di furto aggravato sempre la polizia di Gela ha arrestato un pluripregiudicato in esecuzione ad un ordine per la carcerazione emesso dalla procura della Repubblica di Caltanissetta si tratta di Francesco Morteo, 52 anni deve scontare 4 mesi per rapina ed estorsione fatti commessi a Gela nel 2004 un altro giulese di 38 anni è stato segnalato per impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo stato e adesso parliamo di agricoltura vi riferiamo del convegno che si è svolto oggi nei locali della Pinacoteca Comunale affrontati i problemi che interessano il comparto sentiamo ai nostri microfoni il vice sindaco e assessore allo sviluppo economico Simone Siciliano l'agricoltura è diventato un tema o meglio lo è sempre stato questa amministrazione ha deciso di dare un taglio particolarmente attento al comparto dell'agricoltura cercando di affrontare tutti i problemi di questo comparto in primis parlando dei problemi con chi è l'attore principale cioè gli agricoltori e la cittadinanza si decide di puntare fortemente sull'agricoltura ma per fare questo bisogna capire le origini cioè il passato, i problemi odierni e puntare sul futuro puntare sul futuro significa puntare sulle reti di imprese puntare sulla filiera trasformata puntare sui mercati di nicchia in paesi dove la percentuale di crescita è nell'ordine del 10% ricordando a tutti che l'Italia cresce con una percentuale che è sotto l'1% quindi noi produciamo la Ferrari dell'agricoltura tra il cileggino, i carciofi e altre colture a queste si aggiungono colture di nicchia come ad esempio quella della canapa della famiglia Melfa che è riuscita da questo diciamo da questo elemento a produrre un olio benefico con ricco di omega 3 e omega 6 su queste colture ed altro bisogna puntare puntando in modo particolare sulla fascia trasformata sulla trasformazione dei prodotti che hanno lunga conservazione e possono raggiungere i mercati più lontani Giovedì 28 aprile alle 10 nei locali della direzione sanitaria dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela sarà presente la quinta commissione sanità dell'Assemblea regionale siciliana presieduta da Pippo Di Giacomo per partecipare ad un incontro sulle problematiche che interessano l'offerta sanitaria nel comprensorio di Gela lo comunica il deputato regionale del Partito Democratico il gelese Giuseppe Arancio alle 15 dello stesso giorno la commissione si sposterà presso i locali della direzione generale dell'ASP di Caltanissetta assistenza sul territorio garantita 16 ore su 24 e nelle ore notturne dal 118 questa è una delle novità contenute nell'atto di indirizzo per il rinnovo della convenzione di medicina generale una vera e propria rivoluzione per gli studi medici di medicina generale di continuità assistenziale ossia le guardie mediche che potrebbero rimanere aperti dalle ore 8 alle 24 7 giorni su 7 inoltre potrebbero non esserci più file per pagare ticket e prenotare visita ai CUP poiché i pazienti secondo quanto previsto nell'atto di indirizzo potranno farlo comodamente dagli studi medici abbiamo voluto chiedere l'opinione su queste possibili modifiche sull'assistenza sanitaria al segretario provinciale della FIMG ossia la Federazione Italiana medici di medicina generale Salvatore Pasqualetto intanto prendiamo l'atto di quest'atto di indirizzo quindi un fatto positivo perché si apre una trattativa che è ferma da diversi anni da 6-7 anni la medicina generale quindi è disposta è ovvio che quando si parla di H16 si parla di H16 non solo la medicina generale ma la medicina generale insieme alla condività assistenziale questo H16 che viene così diciamo descritto quindi dall'atto di indirizzo da parte della della controparte quindi dello Stato in realtà è un qualcosa che poi deve essere intercalata a quelle che sono le realtà locali quindi concordando con i direttori generali sulle esigenze del territorio se è il caso di fare H16 H24 diversamente nel caso specifico se dovesse farsi l'H16 è ovvio che dalle 8 alle 20 la medicina generale dalle 20 alle 24 la condività assistenziale mentre dalle 24 alle 8 di mattina il 118 potenziato ma ripeto questo sarà concordato a livello quindi territoriale con i direttori generali sulle esigenze del territorio non è un modello che va esteso equamente su tutto il territorio ma va quindi concordato condiviso e intercalato alla realtà locale è la possibilità di fare prenotazione di SM online per far sì che il poliziente non si rega personalmente fisicamente oppure attraverso quindi file anche telefoniche direttamente in ospedale o nei punti di accettazione quindi questa è una cosa da vedere ancora ma che stiamo valutando positivamente in ogni caso per quanto riguarda invece la cosa diversa è il pagamento dei ticket di cui si parla all'interno degli studi medici questa realtà non è previsto almeno quindi in linea generale può essere fatto in alcune realtà in cui ci sono un numero di medici eccessivo 10-20 medici aggregati che l'azienda sanitaria potrebbe mandare ripeto sempre in alcune realtà un dipendente quindi l'ufficio di dica dell'azienda quindi in quel polo ambulatorio in quella particolare medicina di gruppo quindi associata e riscuotere il ticket l'azienda per conto sempre dell'azienda il personale dell'azienda non il personale medico torniamo a Gela interventi di riqualificazione di Fondogliozza e via Borca di Cadore li ha chiesti all'amministrazione comunale il consigliere di un'altra Gela Salvatore Sammito in merito a Fondogliozza Sammito sottolinea che tra le vie Valeria e Flaminia esiste una scalinata improvvisata pericolante abusiva al buio e piena di erbacce dunque chiede la realizzazione di una scalinata con relativo passamano ed adeguata illuminazione per quanto riguarda invece via Borca di Cadore i numeri civici si interrompono in prossimità di un dilupo per poi proseguire fino alla via Portuense l'auspicio di Sammito è quello che l'amministrazione realizzi una strada con la quale vengano congiunte le due vie quando il calcio non è solo fenomeno sportivo ma diventa anche uno straordinario traino di ambito sociale quando cioè una creatura di questa città sia essa persona fisica o realtà societaria riesce ad unire tutti in un sentimento di amore allo stesso tempo di orgoglio per senso di appartenenza a questa comunità è quello che accade con il gelacalcio che attraverso le sue geste agonistiche ha riportato in un solo colpo l'entusiasmo in città attorno alla locale squadra e nel contempo Gela nel calcio che conta perché parliamoci chiaro vedere come è successo domenica scorsa ben 4.000 gelesi stretti l'uno all'altro a gridare insieme Forza Gela non solo è un fatto eccezionale ma è anche un patrimonio da non disperdere e anzi da valorizzare e capitalizzare con una programmazione seria Gela che torna nel calcio di ambito nazionale insomma ed è una vetrina che questa città martoriata deve necessariamente sfruttare al massimo ed anche al meglio facendo cioè tesoro tra l'altro dei gravissimi errori commessi nel recente passato ai più disparati livelli per cercare quantomeno di non commetterne più e se possibile imitare chi come nella vicina Trapani proprio grazie al calcio si è guadagnato un posto di privilegio e di prestigio in campo nazionale perché è inutile nasconderlo nessun altro strumento di massa come il calcio riesce a veicolare l'intera immagine di una città di un territorio e della sua popolazione in giro per l'Italia i tifosi gli sportivi il gelese comune francamente hanno dimostrato di averlo compreso benissimo questo semplicissimo concetto un po' meno la politica locale molto ma molto meno invece la classe imprenditoriale gelese che continua colpevolmente a girarsi dall'altra parte rispetto all'attenzione che invece merita questa realtà sportiva c'è tempo per fortuna per rimediare per correggere certi atteggiamenti sicuramente strafottenti che si badi bene non sono tali in quanto rivolti alla squadra di calcio come in questo caso ma più in generale lo sono nei confronti della città nella quale operano imprenditori che nonostante la indiscussa grave crisi che si sta vivendo sono comunque e per esclusivi meriti loro leader addirittura mondiali nel settore di attività in cui operano cambiare mentalità per cambiare meglio la città insomma secondo noi passa anche attraverso certi meccanismi che investono campi come appunto la squadra di calcio che rappresentano Gela a livello nazionale perché ripetiamo niente come il calcio è potente nel diffondere l'immagine di una città di Gela quindi e non certo solo di calcio si è parlato ieri sera ad Agorà il rotocalco settimanale di Canale 10 ha ospitato i principali protagonisti del trionfo del Gela Calcio e quindi il suo presidente Angelo Tuccio ma anche l'allenatore dei Biancoazzurri Totò Brucculeri artefice della seconda promozione consecutiva alla guida della squadra gelese e poi due dei pilastri della compagine Biancoazzurra che ha conquistato la serie D ossia il capitano e centrocampista Alessandro Bonaffini e l'attaccante e bomber della squadra gelese Maurizio Nassi a completare il parterre degli ospiti di Agorà il sindaco di Gela Domenico Messinese e l'assessore comunale allo sport Eugenio Catania a dimostrazione che la politica deve stare vicino alle sue eccellenze in questo caso sportive aiutando non già con meri contributi economici come si faceva in passato ma mettendo a disposizione impianti sportivi idonei e dignitosi per sviluppare un progetto sportivo serio chi volesse rivedere questa interessante puntata di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera a partire dalle ore 21 su canale 10 oppure attraverso i nostri indirizzi social Agorà tornerà in diretta come sempre in prima serata venerdì prossimo con ospiti ed argomenti che riguardano Gela ed i Gelesi SOS congiuntivo è l'appello che il quarto circolo didattico di Gela diretto da Cetta Mongelli lancia per la terza volta negli ultimi quattro anni con il suo concorso riservato ai bambini delle scuole elementari siciliane il cui obiettivo è quello di salvare una coniugazione verbale che trova sempre meno attenzione ed uso nella lingua italiana di tutti i giorni sono sette i circoli didattici e gli istituti comprensivi che hanno aderito a questo agone 2015-2016 con 88 alunni partecipanti i quali saranno chiamati a rispondere a 24 quiz con risposte multiple e composizioni nel tempo massimo di 90 minuti una commissione di esperti controllerà le schede numerate e collegate a corrispondenti buste chiuse contenenti i nomi dei concorrenti giudicarà la disposta e stilerà poi una gradutoria una commissione di esperti ai primi tre classificati andranno premi in denaro gli alunni della scuola organizzatrice partecipano fuori concorso per loro ci sarà una speciale classifica e altri premi la prova concorsuale del terzo agone SOS congiuntivo si terrà il 29 aprile la programmazione dei vincitori e la cerimonia di consegna dei premi avverrà il 20 maggio cambiamo argomento è stata presentata ieri l'ultima fatica letteraria di Salvatore Nicosia ce l'avamo anche noi pane amaro la coltivazione del frumento nei lati fondi della Sicilia interna un'analisi approfondita e ragionata di un legame lungo migliaia di anni quello tra la terra e chi la cura e ne ricava nutrimento partendo dall'osservazione minuziosa della coltivazione tradizionale quindi priva di macchine agricole del frumento in Sicilia c'è tutto questo ed altro ancora nel libro scritto da Salvatore Nicosia professore emerito all'università di Palermo presentato ieri nei locali della libreria Mondadori di Gela l'autore espone con chiarezza la travagliata storia di un angolo d'Italia in cui i rapporti sociali di produzione sono rimasti attardati fino a tempi relativamente recenti con il supporto di un ampio catalogo di immagini con Nicosia ne ha discusso il professore Liborio Mingoya io avevo memoria di un mondo che ormai non c'è più che è tramontato completamente e volevo lasciare la memoria di questo mondo volevo cioè che ci fosse le generazioni future sapessero che cosa significò vivere e produrre pane in queste zone della provincia di Cartanissetta all'interno della Sicilia una fatica enorme una condizione di vita dei servi della Gleb e io ho raccolto 160 fotografie una documentazione unica che non esiste in nessun altro libro perché volevo conservare la memoria di questo mondo volevo descriverle perché i miei figli non ci credevano più a quello che dicevo che raccontavo io allora ho cercato le fotografie mi sono dovuto documentare per farglielo vedere che fossero sistemi di coltivazione antichissimi si è visto quando io ho cominciato a mettere accanto alle fotografie della coltivazione del frumento tradizionale degli anni 40 50 ho messo le fotografie delle pitture egiziane del 3000 avanti Cristo erano esattamente gli stessi gesti gli stessi movimenti gli stessi strumenti penso che la terra sia la via obbligata perché la saturazione e i danni dell'industrializzazione e dell'estrazione di idrocarburi la terra in realtà è una grande risorsa naturalmente non con i metodi di un tempo si vogliono metodi nuovi non invasivi non distruttivi della terra ma soprattutto perché coltivare è un grande insegnamento di vita si svolgerà domani verso il Palacostica di Gela il settimo congresso regionale della Divina Misericordia patrocinato dal Pontificio Consiglio per i laici ed il Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione l'evento quest'anno si inserisce nel contesto del Giubileo della Misericordia che Papa Francesco ha proposto a tutta la Chiesa come itinerario di autentico rinnovamento interiore e come speciale attualizzazione sul piano pastorale dell'attratto specifico dell'amore misericordioso di Dio verso ogni sua creatura gli appuntamenti di domani avranno inizio alle 9.30 Enricola il Corriere di Gela settimanale indipendente di attualità politica cultura e sport a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro intervento sostitutivo della Chiesa per il lavoro e lo sviluppo del territorio l'apertura della prima pagina questa settimana tocca all'iniziativa della pastorale di Cesara che in un convegno invita alla riflessione sul lavoro che non c'è giustizia in primo piano con la prima parte di una lunga intervista al GIP di Caltanissetta Lidio Conti e la cerimonia di commiato di Lucia Lotti dalla procura di Gela entrambi i servizi sono di Lucrezia Ferro Giulio Cordaro nella sua rubrica settimanale politicamente scorretto prende di mira la polemica insorta tra l'amministrazione comunale e la conduttrice radiofonica Selvaggia Lucarelli Nello Lombardo firma il resoconto dell'ultima seduta consigliare dedicata al Question Time nelle pagine interne altri articoli di attualità e cultura due e tre pagine dedicate alla promozione in serie D del Gela con commenti pagelle e statistiche a cura di Orazio a comando in ultima pagina infine gli annunci economici gratuiti ci fermiamo linea alla regia per la pubblicità rieccoci seconda parte del telegiornale esiterà domani l'inaugurazione della nuova ambulanza dedicata alla memoria di Emanuele e Giuseppe Alabbiso scomparsi a seguito di un incidente aereo il 24 novembre scorso al Palacossiga intorno alle 12 alla presenza delle autorità civili il vescovo della diocesi di Piazza Medina Rosario Gisana benedirà il nuovo mezzo in uso al corpo dei volontari tre giorni di degustazioni spettacoli ed esposizioni si concluderà domani la festa dell'abbondanza inaugurata ieri in Piazza Umberto I a Gela l'iniziativa porta la firma dell'associazione Demetra e Core ed è articolata in varie piazze del centro storico previsti anche convegni alla Pinacoteca Comunale l'obiettivo è quello di rimarcare le origini e le potenzialità agricole di Gela nel pomeriggio avremo una gara di scacchi vivente con delle esibizioni anche di danza poi la sera abbiamo di nuovo un'altra opera teatrale con la sfilata dell'Angelica Folk che praticamente lungo le vie del centro farà questa sfilata in abiti folcloristici poi la sera abbiamo un concerto in Piazza Salandra delle proiezioni sempre in merito diciamo al discorso ambientato sul fatto dei campi intorno al territorio gelese in merito anche alla storia di Gela per poi avere il concerto come dicevo prima in Piazza Landra di Aranna Beat in France con tutti gli artisti gelesi poi invece domenica abbiamo un doppio convegno uno sull'abbondanza dei campi geloi e l'altro sulla canapa e sulle metodologie sia dal punto di vista industriale che medico terapeutico e poi nel pomeriggio ci saranno balli e canti in piazza per concludere poi due concerti in Piazza Salandra con un gruppo che in questi in cui proprio in questi giorni sta concludendo il suo secondo lavoro il suo secondo disco il Music for Eleven Instrument e poi qua invece in Piazza Chiasa Madre avremo la premiazione del Gela Calcio per quanto riguarda la cavalcata trionfale e la vittoria del campionato che li ha viste adesso entrare nel campionato di Serie D Un itinerario in bici lungo la piana di Gela per avvistare le cicogne bianche la FIAB Federazione Italiana Amici della Bicicletta Nanocicli di Gela organizza domani il Cicogna Day proprio per gli amanti della natura e del due rote ecologico si tratta di un lungo itinerario cicloturistico della rete Eurovelo che passa proprio nel territorio gelese è chiamato la ciclovia dei campi geloi in memoria dell'antica storia del territorio locale appuntamento previsto per domani alle 8.30 con il raduro nei pressi della stazione ferroviaria e torna domani la festa delle oasi e riserve Lipu con una giornata rivolta a tutti una giornata di festa che coinvolge le più belle oasi e riserve naturali Lipu una rete di 30 aree protette che copre una superficie di quasi 5.000 ettari ed accoglie oltre 4.000 differenti specie animali e vegetali ed ospita dai bambini delle scuole ai turisti italiani e stranieri a Gera l'appuntamento è previsto presso la riserva naturale Biviere che dal 1997 con impegno quotidiano protegge preserva e promuove una ricchezza di tutti dalle 9.30 ci sarà una mostra fotografica dopodiché è prevista la liberazione di rapaci ed uccelli acquatici recuperati dal centro fauna selvatica di ficuzza e ora parliamo del prezioso risultato ottenuto dall'Orizzonte Gela nel corso della prima tappa dello special basket torneo nazionale del centro sud secondo posto alla fine della prima tappa dello special basket torneo nazionale del centro sud per l'Orizzonte Gela appuntamento a Montalto di Castro la compagine gelese era formata da Salvatore Morello Mario Pizzardi Armando Ciacia Francesco Mammano Graziano Bennici Mario Palmeri Emanuele Barone Salvatore Capizzello e Nuccio Samà gli atleti sono stati guidati da Gianfranco Cassarino Silvana Palumbo e Laura Salucci anche questa volta l'impegno dei ragazzi nel basket ha portato un risultato nella prima tappa perché abbiamo anche una seconda tappa e finale che sarà all'Aquila siamo stati a Montalto di Castro con una squadra di tutto il rilievo una squadra che tutto l'anno si è allenato si è allenato ma soprattutto con ragazzini che il basket era la prima volta pensate che viene un ragazzo nostro di vittoria ad allenarsi ed è titolare nella nostra squadra questo sta a significare l'importanza dello sport per i ragazzi con disabilità e adesso il 7 maggio saremo all'Aquila per la finale è una bella esperienza anche perché porta una maggiore autonomia ai ragazzi perché vengono da soli e questo porta una migliore gestione della persona il 7 maggio ci sarà poi la gara conclusiva è chiaro che voi punterete al primo posto beh questo sicuramente noi siamo fedeli al motto di Special Olympics che io possa vincere ma se non riuscisse che possa tentare con tutte le forze e questo è lo spirito di Special Olympics e lo spirito dei nostri atleti noi siamo per la prima volta in un torneo di centro-sud che normalmente andiamo al nord dove da anni è strutturato lo Special Basket e abbiamo voluto dare una mano agli organizzatori perché noi già da anni facciamo queste attività sportive io sono andato lì con una squadra di terzo livello proprio per far fare esperienza ai ragazzi e non per andare a vincere noi abbiamo incontrato squadre di livello un po' superiore e si sono battute con tutte le forze siamo attualmente al secondo posto e ora vediamo la seconda tappa come andrà a finire siamo in conclusione proseguono gli appuntamenti inseriti nell'ottantaduesima stagione concertistica giolese promossa dall'associazione musicale Giuseppe Navarra di Gela domani alle 19.15 nei locali di Palazzo Pignatelli è previsto il concerto lirico con Irene Capodici mezzo soprano e Rossella Cardullo pianoforte abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito vi auguriamo un buon weekend grazie a tutti Grazie.